Piena commozione nell'ultima puntata di Tussico e Ballas, il talent show di Canale 5. Infatti Gianni Scotti si è abbandonato alle lacrime e l'esibizione di Andriuli Gabriele, culturista in sede protelle, ha toccato il cuore nel profondo di ogni persona e di ogni essere umano. L'uomo ha emozionato per la grande forza interiore di cui dispone la performance, ha commosso la giuria ed anche il pubblico. Sensibile si è dimostrato il buon Gianni Scotti che, come spesso e bointieri accade, non ha trattenuto, non ha riuscito a trattenere le copiose lacrime che dal suo volto sono scese copiose e è andata a contagiare anche la bellissima Berendotica, svestita o meglio di cenare lui stesso. Poche sono le certezze nella vita, il pianto di Gianni Scotti e Zabbaus era uno di questi, così avrebbe scritto un utente molto in gamba su Twitter e social network dell'Uccellino per eccellenza. Un salutone caro a voi al prossimo video del vostro narratore italiano di YouTube Italia, iscrivetevi mi raccomando, commentate, una buona giornata a voi e un buon inizio di settimana a tutte quelle persone che vogliono divertirsi.